Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna TR24 da Andrea Raggini. La giornata di oggi ha visto il ritorno dell'alta pressione nella nostra regione e che ha determinato una bella giornata di sole. Ma anche la giornata di venerdì vedrà cieli sereni su tutta l'Emilia Romagna. Infatti l'alta pressione perdurerà per molti giorni e porterà temperature in graduale aumento. Tant'è che tra il fine settimana e l'inizio della nuova settimana torneremo a superare punti di 33-34 gradi su buona parte della nostra regione ma tra domenica e lunedì potremo superare anche i 35-36 gradi sulle pianure interne. La giornata di domani però sarà relativamente più fresca, soprattutto in mattinata quando i valori minimi saranno compresi tra 10 e più 16 gradi i valori massimi saranno compresi tra 25 e più 31 gradi. Ventilazione debole, mare calmo. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini.